Al momento è in testa alla classifica, era la prima ginnasta ad aver aperto questa finale. Adesso è il turno della sua compagna di nazionale Stiliana Nicolova. Al momento tre ori in questa tappa di Coppa del Mondo, quello nell'allround, quello al cerchio e quello a clavette. Sicuramente non può fare l'emplane come ha fatto scorsa settimana Raffaelli a Tashkent. No, ormai non lo può più fare. No, ormai non lo può 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 fare. Questo nastro non l'ha lasciata proprio tranquilla durante tutta l'esecuzione Ha avuto diversi momenti in cui se l'è trovato attaccato, un po' appiccicato diciamo addosso